Siamo con Tony Catalano, vicepresidente del Lido Il Pirata Calcio 5, che alla sua prima partecipazione nel campionato provinciale di Serie D sta dando davvero filo da torcere a tutte le squadre. Lo testimonia il terzo posto attuale della vostra squadra. Tony, vi aspettavate una prima parte di stagione sugli scudi, così da protagonisti, oppure per voi è una sorpresa? No, effettivamente siamo partiti con l'intenzione di fare un bel campionato, sicuramente con la nostra rosa che avevamo a disposizione. Però ci siamo resi conti che questa squadra si è rivelata veramente a livello e a questo punto del campionato siamo riusciti a capire che abbiamo delle buone potenzialità da poter far bene. E tant'è vero, ecco, le ultime due partite soprattutto ci hanno dato ancora più sicurezza affrontando comunque delle squadre che ci potevano dare dei grattacapi. E tutto sommato credo che bisognerebbe a questo punto continuare su questo piede perché adesso fino a fine campionato non ci sono momenti da distrarsi perché se vogliamo ambire almeno ad andare ai playoff dobbiamo impegnarci come stiamo facendo. Ecco, una terza posizione che è arrivata dopo un lungo inseguimento in quanto dopo le prime partite abbastanza positive avete attraversato un piccolo periodo di flessione ma giocando sempre contro squadre di altissima classifica. Però in realtà l'unico vero passaggio a vuoto è stato contro la seconda della classe, Ligols Aprilia, che insomma sul vostro campo vi ha dato l'unica forse vera lezione di calcio a 5 perché poi per il resto anche in casa della capolista non avete assolutamente demeritato perdendo 5 a 2, punteggio più che onesto. Mentre invece nell'ultimissimo periodo quattro vittorie consecutive che la dicono lunga sulla vostra crescita. Effettivamente sì, abbiamo notato che Ligols sicuramente è una squadra di altro livello e sarà una delle squadre con cui dovremmo cercare di giocarci il campionato insieme allo stesso Florida che è la prima in classifica. Ovviamente loro hanno dalla parte loro l'esperienza delle squadre di Serie D, noi siamo una squadra novella e quindi possiamo solo approfittare dell'esperienza del mister Padula che è veterano nel campo. E quindi l'unico insieme a qualche altro veterano del calcio a 5 che abbiamo in squadra come lo stesso Capitano e altri giocatori, Muccitelli, Denis, Cepa, che è lo stesso Giunta, saranno i nostri punti di riferimento per le partite a venire che sono fondamentali. Ecco, mi hai un po' anticipato dicendo che vi giocherete il campionato con queste due squadre, quindi l'intenzione non è quella di consolidare solo il terzo posto ma perché no di sognare anche in grande, in fondo non siete così lontani dalle prime due posizioni. Diciamo che effettivamente in questo momento rispecchia, la nostra posizione rispecchia la differenza che c'è tra noi e comunque le prime due della classe. A parte loro ovviamente ci sono anche lo stesso Latino, l'Elettuno e altre squadre che comunque ci danno filo da torce. Ho notato che comunque negli ultimi partiti soprattutto c'è stata una buona risposta da parte dei giocatori, ha aumentato la loro compattezza e si sentono credo adesso abbastanza sicuri da poter andare avanti. Ovviamente sarà molto lunga, è ancora l'andata, mancano ancora due partite per questo gioco d'andata e quindi non possiamo fare né conti, né possiamo ovviamente chiedere più di tanto. Stanno dando già tanto i ragazzi e noi siamo orgogliosi comunque del lavoro che stanno facendo. Però l'appetito vi è mangiando? Beh certo, ovviamente essere una squadra così nuova in Serie D e poi alla fine trovarsi terzo posto penso che adesso ci crediamo, sperando che comunque continui su questa strada. Bene Toni, da parte mia e da parte di tutta la redazione di Mondofuzza che vi segue come al solito nell'arco di tutta la stagione, un grande in bocca al lupo per questa seconda parte di stagione, sperando naturalmente di ritrovarci tra qualche settimana, chi lo sa, con un Lido il Pirata che magari abbia scalato altre posizioni di classifica. Crepi, ti ringrazio, speriamo che sia così, poi sarà il tempo a darci le ultime risposte, gli esiti positivi, speriamo. Grazie, buonasera. Grazie a te.